E eccoci qui su Palmini Motor Asport con l'ospite che qui vedete, protagonista della seconda metà di stagione del Mondiale Moto3, Nicola Fabio Carraro. Ciao Nicola! Ciao, ciao a tutti! Ciao, tutto bene? Allora, tornato bene a casa, sei stato a Leicma, no? Sì, sono appena stato a Leicma e sono tornato da Valencia lunedì sera. Quindi ti sei fatto già il tuo bel tour, però tu non sei lontano da Leicma, giusto? No, io sono di Pado, comunque ci metto due orette ad arrivare, oggi c'era un po' di traffico, ma ci siamo stati, dai. Bene, bene, dai, comunque poi sappiamo che Leicma è un evento molto importante anche per il futuro, comunque si parla, anche in vista della stagione successiva. Però intanto parliamo di quella che si è invece conclusa, la stagione 2022, con anche delle gare nel Mondiale Moto3, dove sei entrato a partire da Silverstone in sostituzione di Matteo Bertelle. E ti vorrei chiedere, Nicola, che bilancio fai di queste gare che hai disputato nel Mondiale, questa tua prima esperienza è ridata. Sì, allora, è un ambiente nuovo per me, però devo dire, mi è piaciuto molto, soprattutto il metodo di lavoro, sia da parte del team che dei tecnici e tutti i team avversari. Devo dire che sono rimasto stupito, però mi è piaciuto molto, è stata una bella esperienza. È stata una bella esperienza e quali sono i ricordi più belli che tieni? Beh, sicuramente le gare che ho preferito sono le gare europee, mentre quelle fuori, Giappone, Australia, Malesia, Thailandia, ecco, sono gare un po' più stressanti, ecco. Le altre mi sono piaciute un po' di più, soprattutto magari sulle piste che conoscevo, tipo Misano, anche se non è andata molto bene la gara dove sono caduto, Valencia, ecco, che conoscevo molto bene, infatti è stata l'ultima e è stata anche la più bella, possiamo dire. Eh sì, perché hai ottenuto la tua prima Q2 e poi in gara ti sei giocato alla zona punti fino alla fine. Sì, sono entrato per la Q2 per la mia prima volta, l'ho mancata, mi sembra, tre volte per meno di un decimo, infatti mi è dispiaciuto molto. Beh, più che altro l'abbiamo mancata sempre durante le prove libere, nella combinata, nella combinata non sono riuscito tre volte per un decimo e in Australia, beh, ho avuto anche un piccolo problema durante la qualifica, dove sono avuto solo un giro per qualificarmi, ho avuto anche alti e bassi, ecco, però dai, Q2, la settimana scorsa è stato emozionante, ecco. E poi una gara, direi, molto positiva anche a Valencia. Siamo arrivati in volata, ecco, in volata sugli ultimi due punti, però due punti che ho sudato fino alla fine, dai. Però, dai, comunque te la sei giocata con piloti che hanno anche ben più esperienza di te nel Mondiale Moto3, è una parentesi comunque di cui si può essere soddisfatti e da cui hai raccolto anche esperienza molto importante in vista delle prossime stagioni a partire dalla prossima. Aspettiamo news, eh, riguardo il 2023. Puoi dire già qualcosina? Non ho ancora la disponibilità, cioè, non posso ancora dire nulla di confermato, però ho parlato con diversi team e non vedo l'ora di dare, magari, l'ufficialità settimana prossima sulla possibilità. Benissimo, benissimo. E tra l'altro questa parentesi nel Mondiale Moto3 è stata una ciliegina sulla torta, si può dire, per una stagione che per te è stata positiva e sui più pronti, perché hai anche gareggiato nel CIV, nel Junior GP. Partiamo, ecco, dal Junior GP, ecco. Cosa racconti delle gare che hai disputato in questo campionato? Allora, ho fatto poche gare, anzi pochissime, ne ho fatte quattro, mi sembra. Mi sono piaciute, però così è così, perché avevo una moto un po' messa su, ecco, del 2018, mentre correvo con avversari che avevano anche la 2020, io addirittura la 21, e ero un po' in difficoltà, devo dire. Però col team mi sono trovato bene, perché abbiamo fatto degli ottimi risultati, abbiamo fatto, mi sembra, miglior piazzamento un ottavo, un settimo, non mi ricordo, a Barcellona, però ho fatto gare molto, molto buone, tipo Jerez a un secondo, dalla seconda posizione, quindi dobbiamo dire che i risultati ci sono stati. Sicuramente chi ha visto la situazione in cui ero è rimasto sicuramente colpito, ecco, perché sono riuscito comunque a arrivare al Mondiale come sostituto. Eh sì, perché comunque c'è stato anche delle top ten, con una KTM nel 2018, contro mezzi un po' più recenti e più performanti, però tu e il team Cross and Road avete fatto un bel lavoro, e siete riusciti a ottenere dei risultati molto importanti. A parte questo, c'è stato anche il CIV, non ti si è fatto mancare niente quest'anno, hai corso anche... Quest'anno, credo sia, tu devi avere un record, probabilmente, in questo momento, perché nessuno credo abbia mai fatto tutti e tre i campionati, ecco. Eh sì, sì, un bel, diciamo, poi parleremo anche di una cosa curiosa che ti ho visto fare, ecco, con tutti questi campionati a cui hai partecipato, ma prima, cosa racconti da CIV? Allora, sicuramente mi è dispiaciuto per il post-corse, la squadra post-corse, perché si meritavano l'italiano dopo anni di, come si può dire, da come li ho visti, li ho visti rinascere, ecco, dopo il mio arrivo. Infatti era un po' la motivazione che avevo, perché erano tutti contenti, non vedevano l'ora di andare a fare le gare, si impegnavano, erano veramente carichi. Per questo mi è dispiaciuto saltare le due gare e non poter vincere l'italiano per loro, ecco. Eh sì, però, comunque, è stata una stagione molto positiva, con vittorie, ti sei giocato il titolo fino alla fine, pur saltando un round, quindi direi... Esatto, infatti, l'abbiamo un po' regalato, ecco, questo campionato, perché abbiamo fatto cinque vittorie, mi sembra tre pole position, dai, è stato un bel anno. Poi, ovviamente, ho portato anche molta esperienza, anche agli avversari, e anche loro avranno un bel bagaglio, perché piloti che, come me, che hanno fatto Mondiale e Junior GP, su piloti nuovi, anzi esordienti nella categoria, secondo me hanno anche loro imparato qualcosa, come anch'io imparavo quando ero più giovane, dai piloti esperti. Eh sì, perché tu, comunque, hai diputato diverse stagioni nel Cib Moto3, hai corso anche nel Junior GP, non solo quest'anno, ma anche l'anno scorso, e hai fatto anche le regali mondiali, e consideriamo anche che il pilota che ha vinto il campionato alla fine nel Cib, Cesare Tiezzi, era il primo anno di Moto3, quindi, comunque, è stata sicuramente un'esperienza, è stata un'esperienza positiva anche per lui, confrontarsi con un pilota del tuo calibro, e... Qual è stata le vittorie che hai ottenuto nel Cib? Qual è stata la più bella? La più bella è stata, credo, Misano, Misano, il secondo round, il quinto, quarto round, non mi ricordo, la seconda di Mitano, che ho avuto dei problemi al motore, non mi ricordo bene, mi ricordo che ho saltato delle prove libere, e in gara ero in difficoltà, incredibilmente, ero veramente in difficoltà, però all'ultimo giro, sono riuscito a tirare fuori qualcosa che gli altri non sono riusciti, e eravamo in cinque, mi sembra, in cinque, che ero comunque, c'erano anche delle wild card dello Junior GP, e all'ultimo giro sono riuscito a vincere in volata, e in quella gara mi sono divertito tanto, ovviamente le gare dove ti diverti di più, dove riesci a far bene, dove sei in difficoltà, sono quelli che ti rimangono più in mente, tipo Vallelunga, che sono riuscito a vincere con distacco, ecco, ho dovuto pensarci adesso, farò almeno venire in mente, Eh sì, però diciamo che ti ricordi più delle vittorie, quelle sudate, dopo delle belle vagare, come ti ricordi anche bene del mondiale, la gara di Valencia, dove ti sei sudato la lotta per la zona punti, anche se poi l'hai sfiorata, ma hai fatto una bella prestazione. Esatto, infatti credo sia la gara dove mi sono divertito di più, contando, e l'Australia, perché Australia si è rimasto colpito soprattutto al circuito, ecco. Eh sì, allora, correre nel mondiale, farlo adesso, ma poi che si può di nuovo viaggiare senza estezioni, così come erano state invece le due stagioni passate condizionate tra le estezioni per la pandemia di Covid, vuol dire, allora, correre in questo modo vuol dire anche viaggiare, viaggiare, andare fuori anche dall'Europa, hai corsi in Thailandia, in Giappone, in Australia, in Malesia anche, ma di tutti, ecco, di questi, di queste mete extraeuropee, quale ti è rimasta più nel cuore, Philip Island? Sì, secondo me sì, Philip Island per il circuito, un circuito incredibile, peccato che è la più distante che ci sia, quindi anche col viaggio più stressante, però arrivare veramente ti godi questo circuito che in Italia, forse col Mugello si può comparare all'altezza di quel circuito, secondo me, poi ovviamente ogni pilota ha i suoi gusti. Sì, ma allora, tu hai fatto Aragon, Giappone, Thailandia, poi sei tornato in Italia per l'ultimo round del CIVA, Imola, quindi subito dopo sei tornato al Mondiale in Australia, con tutti questi viaggi lunghissimi. E dopo l'Australia la Thailandia, subito dopo. E dopo l'Australia subito la Malesia. Sì, la Malesia, sei weekend di fila, sono stati infernali per me. Sei weekend di fila, conterato questo viaggio, andato al ritorno dall'Asia Oceania comunque all'Italia e viceversa, ma i jet lag ne abbiamo? C'è una sufficienza, certo non capivo più niente, devo dire che ero veramente in difficoltà, soprattutto con gli orari, mi svegliavo alle 5 della mattina, andavo letto alle 18, era un bel jet lag, ecco. Un bel jet lag che però alla fine comunque non c'è, nelle gare almeno non si è sentito tantissimo. No dai, perché arrivavamo lunedì e avevamo il tempo di recuperare, ecco. Sì, di recuperare e anche di esplorare un po' anche questi paesi che forse vedevi anche per la prima volta, come la Thailandia, la Malesia, così. Qual è stato quello che ti ha impressionato di più da questo punto di vista? Come viaggiatore, più che come turista, più che come pilota? Come turista? A parte abbiamo pochi giorni, sono comunque due giorni dove possiamo vedere, ecco, un po' i paesi, due o tre giorni. Vabbè, l'Australia, dai, Melbourne, i canguri, i pinguini, dai, quella è abbastanza un po' scioccante. Eh sì, però dai, sono comunque esperienze che rimangono nel cuore e nella mente e anche questo, intanto comunque correre in un mondiale non è solo gareggiare, rai in pista così, ma è anche viaggiare, scoprire nuove paesi, nuove culture, comunque grandi cose. Però adesso, Nicola, ti volevo chiedere, facciamo un passettino indietro, un passettino, così. Allora, quando è cominciata la tua carriera da pilota? Come, quando e perché hai deciso di intraprendere questo percorso nel motociclismo? Ma carriera di piccolo piccolo o letteralmente della moto 3? Da piccolo, dai, da piccolo. Piccolo, dai, possiamo andare alla storia iniziale, cos'era, 2008, 2009? 2008, secondo me era, sì. Forse prima ancora. Avevo cinque anni e mio pao ha portato per sbaglio, secondo me, una minimoto a casa. È iniziato a girare sul parcheggio e dopo da lì è iniziata, va in pista, poi compri la tuta, poi partire là, poi le prime gare, prima gare, 2012, poi passi i campionati del trofeo, passi al campionato regionale e poi all'italiano delle minimoto. E devo dire che l'adrenalina che c'era lì è la stessa che c'è adesso, secondo me. Perché mi sembra ieri, qua ero in minimoto, che addirittura battagliavo contro certi avversari che incontro ancora oggi. Eh sì, che sono arrivati anche al mondiale. Esatto. Minimoto, correvo contro Riccardo Rossi, Stefano Nepa, Raffaele Fusco, che è stato anche il mio compagno di squadra, è incredibile. Eh sì, sì, poi si guarda indietro, quando si correva insieme, poi si guarda il percorso che si è fatto e che hanno fatto anche gli altri piloti. E comunque si fa, si ricordano queste cose anche con un sorriso. Eh sì, hai forse un piloto anche contro Riccardo Rossi e Stefano Nepa che hai trovato al mondiale. Ora Faile Fusco che è stato il tuo compagno di squadra l'anno scorso nel Junior GP, che si chiamava ancora Chad. Vabbè, comunque lì in TM. Ecco, parlando invece delle tue stagioni in Moto3. Allora, tu hai debuttato in questa categoria nel 2017? Eh, 2017 sì, con la Moto3 ufficiale, con una Moto3 ufficiale sì, nel 2017, con una Mahindra. Sì, e puoi raccontare un po' la crescita che hai fatto dal 2017 fino a quest'anno? Allora, nel 2017 sono entrato con il team porto maggiore, con la Mahindra, ho fatto due anni, dove il primo anno è stato un po' di crescita. Il secondo, subito a giocarmi la top 3, ero secondo fino all'ultima gara, che poi sono caduto e ho fatto secondo, ho fatto terzo quel campionato. e poi abbiamo interpreso nel 2019 la strada con la TM, ho fatto tre anni, poi nel secondo anno si è interpreso Davide Giuliano, ho comunque continuato con la MotoTM. Non sono stati tre anni dove ho fatto molte gare buone, anzi forse qualche gara all'italiano, ho fatto bene. non sono andate molto bene, non avevo concretizzato molti risultati, addirittura ho fatto un po' meglio, ho fatto meglio, ecco, quest'anno con la KTM del 2018 al Junior GP e dopo quest'anno quest'anno. Eh sì, e cosa ti è mancato precisamente in quegli anni che hai disputato con TM? Allora possiamo dire che ogni pilota, probabilmente io non ero adatto magari anche alla moto, possiamo dire quanti piloti, non sono andati forti con una moto, poi cambiano moto e vanno a vincere magari anche il mondiale. Può succedere anche nella MotoGP, magari io non sono stato un pilota adatto magari a quella moto, però comunque a me è mancato un piccolo step là. Poi cambiare magari aria a tre anni con una stessa moto, magari, eh, non mi ha fatto molto bene, però non lo sapremo, non lo sappiamo. Non lo sappiamo, sappiamo solamente che quest'anno invece si è passata la KTM nel Junior GP e si sono visti dei risultati ben più positivi anche rispetto alla parentesi con la TM. Sì, eh, una cosa da dire è che ho fatto comunque fatica, anche se era sempre una KTM la prima gara, anche lì ho dovuto adattarmi un attimo, probabilmente anche per il discorso dei tre anni che ho fatto con la stessa moto. E dopo ho fatto di nuovo fatica quando sono entrato al Mondiale con la KTM 2000, cos'è, quest'anno 22, mentre avevo una KTM 18, anche lì ho fatto molto fatica perché era cambiata molto la moto. Però mi sono adattato dopo un paio di gare, ecco. Quali sono le differenze principali che hai riscontrato tra la KTM nel 2018 e quella invece di quest'anno? Allora, intanto, sicuramente lo sviluppo, io non so che sviluppi ci siano dietro la KTM ufficiale, però ho visto letteralmente un modo diverso di guidare. C'era un modo, completamente, anche la posizione in moto era completamente diversa e devo dire che io con la 21, 22, quella di quest'anno, mi sono trovato meglio che con la 18. Sì, tanto comunque inizio un po' di adattamento e poi ci sono visti comunque dei passi avanti. Poi sicuramente lo sviluppo KTM farà per migliorare, non per peggiorare, ecco, sicuramente. In linea teorica sì, mi pare che comunque quest'anno è andata bene, visto che le KTM erano avanti anche. Tutto davanti. Eh sì. Però, quindi, la tua passione per le moto è nata così, quando tuo padre ha portato a casa quella minimoto, così, per sbaglio, come dicevi, oppure c'è stato, oppure comunque seguivi le gare anche da bambino? Beh, ero molto piccolo, credo di aver avuto appena compiuto cinque anni, quindi non sapevo proprio niente, non credo, forse giocavo, non giocavo neanche a calcio, non facevo niente cinque anni. Dalla minimoto lì, mi sono innamorato di questa montagna cinese, era Repsol, addirittura c'era scritto, mi ricordo ancora, Arancione. E da lì, non ce l'ho più, però non ce l'ho più finita con la moto. Vabbè, Lato, comunque... Però è stato il mio inizio, ecco, primo step. È stato l'inizio, primo step, pieno di grandi, bei ricordi, e poi, ecco, poi una cosa che ti volevo chiedere riguardo invece la MotoGP. Chi ti ha impressionato, ecco, riguardo la Moto3, precisamente, ecco, mondiale Moto3, chi ti ha impressionato di più tra i piloti con cui ti sei trovato in pista? Beh, sicuramente, possiamo dire, Guevara, perché è campione del mondo, il modo in cui lui riusciva a guidare la KTM, non c'aveva nessuno. Però, comunque, era un po' incredibile tutti i piloti, perché sono tutti forti, la differenza la vedi in gara, perché comunque io, solo a guardare io il Valencia, ho preso otto decimi in qualifica, il problema è loro che in gara hanno il passo che riescono a tenere, è incredibile. Beh, magari, limite tutte le curve, limite sempre, curva dopo, sempre al limite, e loro riescono a avere questo passo mostruoso, ecco. Eh sì, tanto comunque il livello del mondiale è molto alto, gli stacchi sono piuttosto ridotti, avere un pilota che arriva a stagioni in corso, come è stato nel tuo caso, comunque diventa una bella sfida adottarsi e stare al loro livello. Ah sì, sicuramente arrivare a metà anno è la peggior cosa, perché loro sono al pieno della loro forma, e io devo fare, ti arrivi a metà anno, devi fare il tuo primo passo, e loro invece sono al top della loro forma fisica e mentale, con la moto, e quindi è stata una bella bastonata sulla schiena, il primo turno, ecco. È stato molto, 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 su due piedi, Dio santo, così forte vanno, ecco. Eh sì, diciamo comunque è un bello shock, tu sei arrivato lì al mondiale dopo aver corso con la 450 nel Cib, no? Sì, correvo con la nuova 450 del Cib, esatto. Eh sì, hai fatto il Cib a Misano e poi sei passato al mondiale, hai fatto la gara di Silverstone, è stato così, no? Esatto, sì, arrivare là a Silverstone, pista nuova, pista più lunga del campionato, quasi intorno ai 6 chilometri, moto nuova, team nuovo, tutta nuova, casco nuovo, tutto nuovo, tutto nuovo arrivo là, era abbastanza scioccante, ecco. Eh sì, e come è stato il passaggio dalla... e come è stato, ecco, quali sono le differenze tra la 450 e la moto 3 normale, diciamo, quella 250 che conosciamo che fa anche il mondiale? Allora, ci sono molti aspetti diversi, è qualcosa di simile che è rimasto, la differenza, beh, sappiamo che il 450 è molto più potente, vabbè, i rapporti, 5 marce, perché è un motore da cross, però lo stile è rimasto quello delle gare, le gare di gruppo, è rimasto quello, molto, molto, molto agile, quindi è sempre una gara, insomma, conta molto la scia, le gomme sono rimaste quelle, quindi qualcosa... Qualcosa è ancora rimasta una moto 3, una nuova moto 3, ecco. Eh sì, una nuova moto 3, questa strada che è stata intrapresa nel CIV, mentre poi vedremo cosa succederà nel mondiale, anche nel Junior GP, anche se comunque sembra che si vada avanti sulla direzione, quella attuale, della 250, a quattro tempi. Però, Nicola, adesso passiamo dalle moto a quello che fai quando non ci sono le gare. Allora, è stato dolente quasi, in questo periodo. Come? Allora, no, da raccontare, no, da raccontare. Allora, tu ti concentri al 100% su questa tua carriera nel motociclismo o fai anche altro nella vita? Allora, inizialmente, quando avevo appena firmato per fare solamente l'italiano, lavoravo anche nell'officina di papà e tutti i giorni andavo a lavorare tutti i giorni con lui, sette e mezza, da guidare il camion, faccio di tutto, trasporti, da lavorare in officina, a tornare a casa tardi la sera. Poi ho detto, aspetta, vediamo se riesco ad andare un po' più forte in moto, che lavorare è un po' più dura per me. Sì. Guardate, sono stati via anche sette settimane di fila da casa, quindi lavorare non ho più lavorato, ecco. Adesso vediamo questo inverno, magari se in inverno, secondo me, sicuramente il mio passo è l'occasione, mi ributerà a fare qualcosa. Sì, però intanto comunque avere anche un lavoro a riportire delle competizioni può essere comunque già anche un'altra esperienza formativa per il futuro, non si sa mai. Intanto comunque si fa qualcosa, si fa esperienza. Sì, perché alla fine se uno ci pensa l'allenamento è importante, però noi piloti comunque, a parte l'allenamento fisico che può essere andare in palestra, allenarsi, andare a correre a piedi, alla fine ti toglie quelle poche ore durante la giornata, che un dipendente che ne fa otto sono niente in confronto. E ovviamente se dobbiamo andare a correre in moto, una giornata di allenamento in moto, là ovviamente ti toglie tutto il giorno, però anche là bisogna avere delle disponibilità economiche diverse, perché andare a girare col 600 ti vengono via dei preparati del treno di gomme, la giornata in pista e un meccanico, andare via col camion ti vengono via molti soldi. Ecco, magari una giornata col motocross posta meno, però sappiamo che il cross è più pericoloso, quindi un po' da valutare. Comunque si spendono soldi ad andare ad allenarsi. Mentre andare a correre a piedi non ti costa niente. Esatto, quindi ecco, qual è il tuo regime di allenamento, adeguato anche a quelle che sono state le tue, a quelle che è stata anche, a quelle che è stato il tuo programma per quest'anno, con anche il lavoro. Devo dire che la palestra è la cosa che mi piace di più fare a casa, soprattutto è un po' la mia routine che mi piace, però c'è un po' il problema del, il solito problema della moto 3, dei piloti che sono magari un po' più, un po' più alti, che è il peso. Andare in palestra può aiutare, ma può anche non aiutare. Quindi dici, vado bene, però non sono così snello come dovrei essere per la moto 3, avere magari le braccia un po' più grosse, comunque che le sono un chilo in più, e un chilo sulla moto 3 fa la differenza anche. Quindi devo dire che anche la corsa a piedi mi piace molto, quando ho la possibilità vado, quasi tutti i giorni c'è la possibilità. Eh sì, comunque, un allenamento comunque un po' più cardio anche viene incertato. Sicuramente, quasi sempre cardio, quasi sempre cardio, anche in palestra, circuiti. Ovviamente il sogno sarebbe andare, se si ha la possibilità, tutti i giorni con una moto da strada, però non è infattibile per i costi. Ma tu ce l'hai una moto da strada? Sì, io ho un 600, un 600 con cui mi alleno, non ci andiamo spesso, però poi adesso d'inverno si va di solito o con l'enduro o con il cross, però bisogna stare attenti che è pericoloso. Infatti io quell'inverno dell'anno scorso mi sono tolto la cavicola con l'allenamento col motard, infatti da lì ho eliminato il motard perché ho detto, vado a farmi ancora male e adesso basta. Adesso addirittura quest'inverno devo togliermi, beh, in queste settimane mi toglierò la placca per l'anno prossimo. Eh sì, purtroppo diciamo che comunque l'allenamento in enduro, motard o col cross è molto comune, anche d'aiuto per farsi in vista delle gare, però bisogna stare un po' attenti. Ci sono dei grandi rischi, ci sono anche i piloti di MotoGP che comunque negli anni hanno rischiato anche di saltare gare per infortuni rimediati facendo questo sport. L'allenamento, esatto. Sì, e poi invece quali sono anche i tuoi hobby, le tue passioni al di fuori delle moto? Hobby e passioni in realtà non ne ho così tanti, se adesso ci penso, ci sono quasi solo le moto nella mia vita, dai, corro in moto e basta, allenamento, quella è la passione e basta. E quando hai un minimo di tempo libero come passa il tempo? Un po' di tempo libero lo faccio con gli amici, sarò a disponibilità, magari la sera, ecco. Però anche quello io non sono uno che va a fare molte feste la sera, non vado poi a letto così tardi, non sono preparato mentalmente per fare fino alle sei della mattina, non ce la faccio. Sono uno abbastanza rigido sugli orari, ecco, non mi va di stare fuori, sveglio fino a tardi che poi mi perdo con gli orari, non mi riesco più a svegliare la mattina, sono un po', ecco, così. Eh sì, e quindi, allora, perché mi sembra che comunque alla fine del GP di Valenza c'è stata la festa. Sì, c'è stata la festa, io ovviamente non sono andato, perché iniziava a mezzanotte, io ho detto io a mezzanotte sono già dei miei sogni, quindi andate pure voi, c'è gente che è tornata a piloti, magari non so, sono tornati alle sei della mattina, così io me la metto un po' come bonus capodanno, ecco, e basta. Solo capodanno, solo capodanno, la festa fino a tardi è solo capodanno. Esatto. Quindi è una regola rigida da seguire, quindi tra una serata tranquilla, così, in un pub, così, o andare in discoteca, quindi se è più per il pub, il bar, così. Esatto, più per, anzi, quello che mi piace più è passare a casa con gli amici, ecco, a casa, proprio chiacchierare a casa, mi piace di più. Sì, chiacchierare o anche fare altre cose, tipo guardare film, giocare con i videogiochi, così. Sì, esatto, parlare soprattutto di auto con i miei amici, vogliamo fare macchine, sogno, sogno, il mio sogno è avere una macchina, così, quello parliamo. Sì, e poi invece riguardo proprio quelli che sono i tuoi gusti. Genere musicale preferito? In realtà, allora, una volta ascoltavo musica un po' più rock, cose un po' più cattive, poi però ho visto che sono più uno di quelle tranquillo. Anche in gara, prima delle gare, ascolto la musica, ascolto musica tranquilla che dopo non mi agito alla prima curva e rischio di ammazzarmi nella prima curva, ecco. Ho l'effetto contrario, mentre mi è sempre capitato di avere compagni di squadra, loro si mettevano le musiche sulle casse, dentro il bilico, con due retti di riscaldamento, mettevano musiche pump che caricavano. Io devo mettermi le cuffiette, quelle per rilassarmi, se no vado alla prima curva, mi agito e facciamo un bel casino. Quindi tipo che canzoni ascolti, per dire, prima della partenza? Ah, musica un po' più tranquilla in inglese, magari, ecco. Potrei adesso guardare sulla playlist, però roba tranquilla comunque. Roba tranquilla tipo, non so, musica classica, anche di cambiare ad ascoltare, roba così? No, non è classica, sono proprio, sì, anche classica, anche classica, pop quasi tranquillo che non alzano la voce, stanno proprio acuti, quasi tristi, ecco, molto tristi, canzoni tristi, ascolto, ecco, prima delle care. Poi è il mio mood, è anche in aereo, te hai meditazione triste, ti addormenti dopo cinque minuti, ecco, è perfetto. Eh sì, diciamo che comunque, diciamo che la musica per te è associata soprattutto al relax, ecco, rilassarti mentalmente prima di una partenza, o rilassarti sull'aereo prima di farti un bel sonnellino, queste cose qua. Mi piace cantarmi, la musica la uso molto per rilassarmi. Cantante preferito? Cantante preferito? Ah, no, diversi. Dovrei guardare, dovrei guardare, sono un po' indeciso, vediamo se esce dalla chat se faccio così, o ci sono ancora? Non ti vedo, però ti sento. Non mi vedi, però mi sento, ok, perfetto. Allora, vediamo cos'è che ascolto. Allora. Beh, allora, sul canzoni di Chiello, cosa molto, molto, molto tranquillo, Nasca, Nasca, le canzoni sue tranquille, perché lui è uno agitato, poet, robe tranquille, ecco, tutte robe, sono, magari, il cantatio non conosce molta gente, forse nessuno, però, ecco, sono canzoni mie, ecco. No, mi sembra che Nasca, che non è uno youtuber, se è chiaro. No, no. Però bisogna stare attento, a volte parte con musiche molto alte, cattive, io invece ascolto le sue deprimenti, ecco. Eh sì, comunque l'importante è stare tranquilli. Poi, film preferito? Film preferito? Allora, mi ricordo che una volta era Avatar, però adesso mi piacciono un po' quelli un po' più scatenati, tipo, una volta mi piaceva un sacco Transformers, che poi hanno smesso di farli quando ho cambiato gli attori, ecco, robe, comunque dove deve essere un po' di azione macchina. Eh sì, sì, e lì comunque ce n'era, e c'era anche una bella figura come Megan Fox, buttalo via. Esatto, è l'ottrice famosa, famosissima. E anche, ecco, un po' dei Fast and Furious i primi, i primi. E poi se è arrivato più sulle armi, non mi piacciono più. Eh sì, ci sta, anche perché comunque è una saga abbastanza lunga, diciamoci. E poi, invece, libri, li leggi? Libri, adesso non ne leggo più, però non ne leggo più, no, non mi viene in mente i libri che leggo, ecco, o che ho letto, no, non sono mai stato un amante della lettura. A parte quelli di scuola che ti toccava leggere, comunque, quando ancora hanno le scuole. Sono obbligato a leggere durante le vacanze estive. Ecco, e poi, invece, allora, altri sport che ti piacciono a parte le moto? Mi piace atletica, atletica mi piace molto, e comunque sulla parte, anche facendo palestra, mi piace quello, e Formula 1, ovviamente. Eh sì, quindi comunque ti segui anche i GP abbastanza lunghi, ma solo la partenza, o resisti fino alla fine della gara? No, non resisto fino alla fine della gara, non ce la faccio. Eh sì, perché? Mi piacciono soprattutto gli highlights. Eh sì, eh sì, quindi un po' più concentrati, perché non sempre si reggono 60-70 giri di Formula 1, diciamo. Mi piacciono, quel bagnato le guardo tutte. Eh sì. Sono sempre spettacolari. Perché lì si scompiono un po' più le carte, certo, se no, insomma, guarda, va la partenza e poi buonanotte. E poi, allora, a parte di sport preferiti, adesso tornando invece un po' più sulle moto. Allora, chi è il tuo pilota preferito? Pilota preferito? Eh, possiamo dire come guida è Mark Marquez, lo da fuori è per me impressionante. Che poi devo dire che non sono in queste gare, tutte le gare che ho fatto del mondiale, sono state le gare dove ho visto meno la MotoGP. Sembra assurdo, ma è così. Eh sì, perché tanto comunque sei più concentrato su quello che devi fare te. Esatto. Ok che noi finiamo alle 11 e loro iniziano 3-4 ore dopo, però raramente la guardo. Poi devi scappare, no? Perché se no dopo c'è il traffico. Non te la gusti proprio la gara della MotoGP. Noi da piloti da dentro non ce la gustiamo. Esatto, ma allora il metodo di lavoro, a proposito, dal CIVO, dal Junior GP al mondiale, come cambia? Allora, intanto i turni a disposizione sono molto meno. Il modo in cui lavora il team, subito la moto si parte da un setting base, dove bisogna subito andare forte e poi si va a regolare poco sulla differenza, perché comunque già col setting ci sei quasi, perché i tecnici inquadrano come guidi, come sei, loro riescono a studiarti solo vedendo i dati. Poi le gomme, perché si parte sempre con gomme nuove, mentre al Junior GP e all'italiano si utilizzano le gomme della gara successiva, e quindi devi partire un po' più tranquillo, mentre là hai la gomma nuova e quindi subito devi immartellare da subito. Quindi quelle sono le differenze principali. Diciamo che bisogna spingere da subito comunque nel mondiale. Sì, poi avendo messo le prove libere e combinate, devi per forza dare il meglio di te per entrare nelle combinate. Poi devi subito prendere il ritmo. Non è che il primo turno puoi permetterti di prendere quattro secondi. Cioè, subito prendere il ritmo del gruppo. Eh sì, esatto, comunque anche perché poi gli stacchi sono veramente ridotti anche dalla prima all'ultima posizione. E fa una differenza, c'è anche una differenza irrisoria tra l'entrare direttamente in Q2 e il dover passare per la Q1. Esatto. Sì, una differenza molto grossa. Invece poi, parlando ancora di te Nicola, allora, pregi e difetti di Nicola Fabio Carraro, pilota? Pregi e difetti. Pregi, allora non sono io che posso dire i miei pregi, però dai, sono abbastanza puntuale, sono abbastanza puntuale secondo me. Difetti, magari no, ordinato, sono un po' ordinato. Difetti, difetti, difetti. Ah, quando non c'ho voglia di fare una cosa non si fa, soprattutto magari in un gruppo. Litigo abbastanza su quello, se c'è qualcosa da fare che vogliono fare gli altri, io non voglio farla, non c'è niente da fare, io non la faccio. Quindi, andate voi. Sì, abbastanza testato, questi pregi che... Però basta, ecco, basta testare, un po' testato lo sono. Sì, questi pregi difetti che si applicano anche alla tua vita, come all'ipori delle gare. Esatto. Sì, poi c'è... scusa, volevi dire qualcosa altro? E poi... No, basta, basta così, perché sia sufficiente. Beh, sì. Poi, tu hai condiviso anche il box quest'anno del mondiale con Elia Bartolini, che conoscevi già dai tempi del CIV. Esatto. Com'è stata la convivenza con lui? Ah, con Elia mi sono trovato molto bene. Tirava sul morale, anche lui, perché lui mi fa sempre ridere. È un pilota molto simpatico. E dai, ci siamo anche tirati un bel po' di carenate durante l'anno. Un pilota va forte e dai, mi sono trovato meglio di... Non potevo trovare un compagno di squadra migliore, insomma. Poi era italiano, anche lui era il primo anno. E così, mi sono trovato molto bene. Sì, e c'è un aneddoto particolare che vuoi raccontare riguardo appunto questa tua convivenza nei box con Bartolini? Beh, no, non c'è niente in particolare. Come dicevo, ci facevamo molti scherzi, molto scherzose, ridevamo molto. Uno? Uno, lo so, una volta mi ricordo che è arrivato un ragazzino a chiedere saponette. Ho rubato una saponetta da Elia, ho credo addirittura anche uno stivale. gliel'ho rubato e gliel'ho firmato al posto suo, gliel'ho scritto Elia e gliel'ho dato io. Facevo gli scherzi, sì. Ho preso la saponetta da Elia e gliel'ho firmata a nome suo e l'ho data via. E così? E lui dopo come l'ha presa? Ah, lui gliel'ho detto dopo e lui ha detto ma come? L'ha presa la saponetta da Elia. Anzi, due volte ha raccontato, bravo, bravo, vai, vai. Così, la maniera da ridere. Ebbene, hai fatto contento comunque un bambino che voleva... Sì, era. A spese di Elia. Esatto, esatto. Eh sì, e poi ecco con questa possiamo dirigerci verso quello che è il momento conclusivo, ecco le interviste che faccio, che sono proprio il momento del ringraziamento. Tu, a chi vuoi ringraziare per tutto quello che hai vissuto finora e per quello che vivrai comunque nelle prossime stagioni? Allora, sicuramente la squadra. Io devo dirti la squadra perché del QG Motor, Avintia, vi devo ringraziare molto soprattutto per il lavoro che hanno fatto, partendo dei tecnici ai meccanici. I meccanici hanno lavorato tantissimo. Vi vedevo incredibile quanto lavorino. E ho visto proprio che si impegnano, anche se non ci sono i risultati, capito? Un po' demoralizzante. Ho finito le prove libere, ok, ho fatto venticinquesimo, ventiseiesimo. Caspita, ho preso un secondo e mezzo, due secondi. Eppure il team non è che si mette là, non ne frega niente. Anzi, si impegnano comunque, anche se non ci sono i risultati. Quindi là non posso dirci niente. Anche quando io vado male, loro danno il cento per cento. E quello addirittura mi dava voglia di far bene, no? Vedere cose così. Certo, comunque quando c'è questo feeling tra pilota e team, il team è sempre lì ad aiutarti a lavorare al massimo, anche quando i risultati non arrivano, che comunque nel tuo caso ci stava, anche perché è appena arrivato. Esatto, riuscivano a capirti, e quindi si impegnavano, si impegnavano. Questo vale anche col team dell'italiano, che è sul team del Junior GP. Si sono sempre impegnati e quindi devo apprezzare il lavoro che hanno fatto ore e ore, anche sulle cadute magari. Mi ricordo a Misano che, te l'ho detto, ho saltato una prova libera che si è rotto il motore. Ci sono messi subito a lavorare, rimuovere il motore, preparare la moto per le qualifiche, che era un'ora dopo. I meccanici fanno il lavoro più duro, ecco. E quindi, secondo me, loro sembrano banali, però sono importanti. E poi il capotecnico, che più che capotecnico lo vedo come fanno molto da psicologo, per i piloti, che se non c'è feeling lì il pilota non può andare. Io devo dirmi di essere ritenuto fortunato, perché ho avuto a che fare con tre capotecnici diversi quest'anno, ed erano uno più buono dell'altro, e uno che mi aiutava più dell'altro. E soprattutto non può capirmi. Infatti sarebbe bello fare una riunione con tutti e tre capotecnici, sarebbe divertente sentire cosa dicono di me, se li mettiamo dentro una stanza, però dai, non è possibile. Eh, oh, attenzione, perché comunque con internet si possono fare tante cose. Però dovrebbe essere interessante, sbeccarli tutti e tre e chiedere cosa ne pensano. Non so cosa ti dicono. Sì, facciamo cosa pensi di Nicola Fabio Garraro, e vedi proprio se si mischiano tutti i loro pensieri, e magari viene poi qualcosa anche di molto interessante. Perché loro sono quelli che conoscono più bene la testa del pilota. Loro riescono a capire la testa benissimo. Sì, poi c'è qualcun altro che vuole ringraziare. Poi voglio ringraziare ovviamente mio padre, gli sponsor, e chi mi sta aiutando quest'anno. Sì, che ti sta aiutando quest'anno e che ti aiuteranno anche nelle prossime stagioni, verso un obiettivo che è per la tua carriera, Nicola? Allora, l'obiettivo è tornare al mondiale e tornare con una moto per poter fare molto bene. Quello è l'obiettivo. Allora, tornare al mondiale e tornare per vincere. Quello è l'obiettivo. E invece a più a lungo termine, qual è il tuo sogno? Il sogno è tornare per vincere, combattere, magari per poi rimanere fisso, fisso lì al mondiale, e poi vabbè, magari un sogno è andare sempre alla MotoGP, ma è il sogno di tutti i piloti partendo dalle mini-moto, scusate. Sì, comunque il sogno è arrivare in MotoGP, di arrivare anche a vincere dei mondiali, come è stato fatto anche già più volte da quello che considera il tuo pilota preferito, ovvero Mark Markets. E ti auguro, Nicola, di riuscire a raggiungere tutti i tuoi obiettivi, tutti quelli che ti sei prefissato nella vita di tutti i giorni e nella tua cadera da pilota. Esatto. Adesso ci concentriamo per il 2023. Sì, buone notizie che aspettiamo con grande piacere e intanto ti ringrazio tantissimo per aver partecipato a questa intervista e veramente ti auguro il massimo in tutto quello che fai. Grazie a voi. Grazie mille a te, Nicola, sempre full gas. Grazie mille a te, sentiamo full gas. Ciao a tutti. Ciao Nicola, ciao ciao. Ciao.